Sono state recuperate le salme delle sette vittime del disastro aereo avvenuto sabato mattina sul Gargano, dove un elicottero dell'Alidaunia, società di elitrasporto partito dalle isole Tremiti, è precipitato in località Castelpagano, in agro di Apricena. Sette persone a bordo e tutte hanno perso la vita, i due piloti, una famiglia di turisti sloveni con due figli adolescenti ed un medico del 118. Le salme sono state condotte presso l'obitorio di San Severo e l'autopsia, secondo quanto ha dichiarato il procuratore della Repubblica di Foggia, Ludovico Vaccaro, sarà eseguita solo sui due piloti. La procura ha aperto un'inchiesta con l'accusa di disastro avviatorio colposo plurimo a carico di ignoti. I soccorritori hanno lavorato anche per ritrovare un'eventuale scatola nera, una presenza non certa sul velivolo dal momento che non tutti gli elicotteri ne prevedono un'installazione, ritrovamento che andrebbe a fornire elementi decisivi per determinare le cause dell'incidente. L'Agenzia Nazionale sulla sicurezza del volo ha nominato due investigatori, un ingegnere dell'aeronautica ed un pilota, mentre la procura ha nominato tre consulenti, un docente universitario esperto in tragedie aeree, un colonnello ingegnere dell'aeronautica ed un colonnello pilota. Intanto sul luogo della tragedia si è recato Francesco Nardelli, il papà di uno dei due piloti, Andrea Nardelli, che ha dichiarato mio figlio era un pilota esperto, non ha mai avuto nessun problema, sapevamo tutti che ci fosse una forte perturbazione sul Gargano, le condizioni di volo non erano ideali, non so da chi sia arrivato l'ok per il decollo.